La diocesi di Monavalva cerca un animatore di comunità nell'ambito del progetto Policoro. Al bando pubblicato su Siro della Diocesi possono partecipare giovani di età compresa tra i 23 e i 35 anni. Se giovani mangiano lavoro sono parole che suonano familiari e se si vogliono mettere a servizio degli altri le proprie capacità relazionali e la propria esperienza nell'animazione di gruppi, aderire al bando può portare a vivere un'importante occasione per mettere a frutto i propri talenti. Il bando per l'assegnazione di una borsa di studio per l'anno 2021 per la formazione del nuovo animatore di comunità della diocesi su Monavalva è stato pubblicato. I giovani residenti in uno dei comuni della diocesi che hanno a cuore il tema dell'occupazione giovanile e dell'autoimprenditorialità sono pronti a rimboccarsi le maniche e provare a rendere il territorio nel quale vivono più generativo di quanto non sia. Hanno infatti una grande opportunità da sfruttare a beneficio proprio e degli altri. Per partecipare al bando e c'è tempo fino al 31 luglio prossimo, le candidature devono pervenire